L'esperienza di un clown raccontata in un libro, ti presento il CIP, cioè il circo in parrocchia. Un percorso educativo nato nel 2009, promosso e curato dai volontari dell'ufficio animazione Caritas della diocese di Sassari a cui l'autore Alessio Marras ha voluto rendere omaggio. Un volume di sole 180 pagine da leggere e rileggere che lo stesso autore ci ha anticipato. Ti presento il CIP, è la storia di un clown che vede il mondo con i suoi occhi, col suo naso rosso. Per cui la bellezza sta proprio nel poter vedere sia le cose sbalorditive così come i disastri del mondo. Forse sono proprio anche i disastri del mondo, gli sfaceli che rendono possibile la vita e la storia di un clown che sa andare oltre anche una risata tante volte. Quanto può aiutare una risata in situazioni drammatiche? Una risata può aiutare tantissimo, soprattutto quando arriva il riflettere su ciò che risata non è. Quando una persona sa dirsi sono questo ma non sono solo questo. Una risata aiuta tanto nel momento in cui si ha proprio la volontà e la capacità di accoglierla, non solo di donarla, anche nelle esperienze, tante esperienze di sofferenza, anche di volontariato, avere anche la volontà di non solo aprire una sacca per donare qualcosa ma anche per riceverla. Ti presento il CIP sarà presentato ufficialmente domani alle 19 con uno spettacolo nel teatro della parrocchia Santa Maria Bambina nel quartiere di Santa Maria di Pisa con Alessio Marras nelle vesti di clown e don Andrea Stara come presentatore. Il libro può essere richiesto per mail a tpresentoicip.gmail.com e il ricavato andrà a sostenere alcuni progetti di volontariato all'estero.